E' stato pubblicato il bando di partecipazione alla selezione di 20 volontari da impiegare in un progetto di servizio civile, lo stesso presentato dal comune di Agropoli. In un primo momento non era rientrato tra quelli finanziati come l'altro progetto, Agropoli Destinazione Sostenibile, incentrato in ambito turistico 25 volontari, essendo esaurite le risorse. Grazie alla disponibilità di nuove risorse, giunta in data di ieri, la comunicazione che anche l'altro progetto presentato per la candidatura è stato ritenuto idoneo e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Si tratta di Never Alone. L'obiettivo del progetto è fornire un sostegno psicologico assistenziale adeguato ai minori e anche stranieri che vivono o hanno vissuto situazioni di disagio. Si intende supportare i minori, autoctoni e stranieri che vivono condizioni di disagio prevedendo un percorso di sostegno socioassistenziale, sia in un'ottica preventiva che di recupero, in caso di manifeste problematiche connesse alle dipendenze da abuso da sostanze o da dipendenze comportamentali, da fenomeni di devianza giovanile all'interno del comune di Agropoli. I giovani interessati a presentare domanda di partecipazione alla selezione possono consultare i requisiti e le modalità di partecipazione su www.serviziocivile.gov.it, www.amesci.org, www.comune.agropoli.sa.it. La data di scadenza per presentare le adesioni per entrambi i progetti è prorogata al prossimo 15 febbraio 2021 alle ore 14. Possono partecipare i giovani di età, compresa tra i 18 e i 28 anni. Quest'anno la candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda Online, DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo HTTP, due punti slash slash domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema attraverso SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Sul sito dell'Agid, l'Agenzia per l'Italia digitale, sono disponibili tutte le informazioni necessarie per richiedere lo SPID. L'ufficio servizi sociali del comune di Agropoli è disponibile per eventuali chiarimenti in orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. È possibile in alternativa contattare i numeri 0974 82 74 27, 0974 82 74 67, oppure inviare una mail a serviziocivile chiocciolacomune.agropoli.sa.it. Siamo felici di apprendere, affermano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore alle politiche sociali Vanna D'Arienzo, che anche il secondo progetto di servizio civile presentato è stato finanziato. Quindi a breve partiranno due nuovi progetti che vedranno all'opera, uno in ambito turistico e l'altro in quello sociale, 45 volontari. Un'esperienza formativa importante per tanti giovani del territorio.